Ti stai appassionando al video e vorresti dare ai tuoi filmati una marcia in più? La color correction è considerata una fase indispensabile nelle produzioni professionali, ma per un videomaker, magari alle prime armi, le decine di controlli del pannello colore Lumetri di Premiere Pro possono sembrare uno scoglio insormontabile. Ti assicuro che ottenere una buona correzione colore e un buon color grading è più facile di quanto pensi e oggi ti propongo due soluzioni. La prima, facile e immediata, ti darà buoni risultati in pochi minuti. La seconda richiederà più impegno, ma ti darà un bagaglio di conoscenze tale da aprirti una serie enorme di nuove possibilità. Ho anche pensato di farti un bel regalo, stai con me fino alla fine. Ciao, sono Mariano di VideoZappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai prove, tutorial e guide, proprio come quella di oggi. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche, in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito, dai uno sguardo alla descrizione qui sotto, dove trovi anche il link al mio negozio su Amazon. Ci sono tanti prodotti, tutti commentati, che ho provato personalmente. Puoi acquistare tranquillo, evitando delusioni. A te non costa neanche un centesimo in più e darei una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando. Il problema con color correction e color grading è che ci sono tanti approcci diversi a questa attività. Su YouTube trovi decine e decine di tutorial, non tantissimi in italiano, ma comunque ce ne sono veramente tanti, e ognuno ti spiega una fase, un processo, un sistema per arrivare a una soluzione di solito su un problema estremamente specifico. Quello che manca è una vista d'insieme adatta al principiante che spieghi sia i principi base di questa attività che soprattutto come arrivare a un risultato coerente e professionale. Dunque ho realizzato un corso completo per principianti su color correction e color grading con Premiere Pro, quindi utilizzando i controlli Lumetri di Premiere Pro. Il corso è già disponibile su Udemy, è un corso, ti ripeto, per principianti, quindi parte da zero, mettendo in ordine tutti i passi necessari per arrivare a un buon risultato. Se hai un'esperienza anche minima di Premiere, questo ti aiuterà senz'altro. Ti descrivo brevemente gli argomenti che tratta questo corso in modo che puoi capire se è un genere di percorso che può interessarti. Inizieremo con una introduzione nella quale cerchiamo di capire prima di tutto di che cosa si tratta, come fare ovviamente ad avere Premiere Pro e i fondamenti di questa attività, proprio la terminologia. Studieremo poi il soggetto principale con cui andremo ad interagire, ovvero il colore. Capiremo come si generano i colori, come possiamo trasformarli, quali sono i parametri che li controllano. È l'unica sezione, se vuoi, teorica del corso. Tutto il resto è completamente orientato alla pratica, ma anche in questa sezione le poche nozioni di teoria che avrai le ritroverai tutte quante necessarie necessarie ed applicate nella pratica che seguirà. Successivamente guarderemo gli strumenti che Premiere Pro e il colore lumetri ci offre per correggere i toni, quindi le cose troppo scure, troppo chiare. Impareremo a plasmare i toni dell'immagine e a lavorare con quella che un tempo era l'unica soluzione per fare color correction con Premiere, ovvero le curve RGB, che sono, se vuoi, un pochino sottovalutate, ma ti permettono di fare delle cose realmente molto, molto interessanti e le vedremo a fondo. Successivamente passeremo a guardare la parte più potente del colore lumetri, ovvero le curve HSL. Studieremo gli strumenti necessari per controllare quello che stiamo facendo e ti insegnerò una serie di trucchi che ti permetteranno da subito di ottenere buoni risultati anche con le clip che ti mettevano in difficoltà. Nell'ultima sezione uniremo tutte queste conoscenze, affronteremo dei casi pratici, concreti, di clip anche molto problematiche e arriveremo alla fine ad ipotizzare un flusso di lavoro che ti permetta di lavorare in maniera professionale, non distruttiva e di poter sempre tornare sui tuoi passi. Il prezzo lo hai visto, il corso costa 30€, puoi utilizzare il coupon MASSIMO15, ti lascio il link e tutti i dettagli nella descrizione qua sotto, per pagarlo, indovina un po', MASSIMO15. Massimo perché la politica dei prezzi di Udemy sta cambiando in maniera abbastanza difficile da comprendere, per cui io posso fissare un prezzo massimo del coupon, ma il prezzo minimo o il prezzo che praticherà a te lo decide Udemy. Purtroppo non ci posso fare niente. Ti ho promesso una sorpresa, abbi pazienza, ne parliamo tra un po'. Adesso vediamo qual è la soluzione facile. Andiamo in Premiere Pro e la prima cosa che devi fare è andare su Finestra, Spazio di lavoro e selezionare Colore. In questo modo ti troverai con i pannelli nella posizione che vedi, che è quella che Adobe Riediene essere corretta per la Color Correction. Io preferisco disporre questi pannelli in maniera leggermente diversa, nel corso ti spiego esattamente come fare. Il video su cui lavoreremo sono delle immagini che avevo realizzato per la prova dello Zayun Crane Plus a Spoleto. Sono immagini piuttosto vecchiotte, girate, mi sembra, con una GH4. Ora, mettiamole a posto e ti faccio vedere come in pochi minuti possiamo migliorare questo filmato. Posizionati per ciascuna clip su un'immagine che abbia sia delle cose scure che le cose più chiare disponibili in quell'inquadratura. Se questa cosa non fosse disponibile nella stessa inquadratura, fai un pezzo alla volta. Qui vedi, abbiamo tutto disponibile perché c'è questa parte chiara e questa scura. Aiutandoti con questo strumento che si chiama Waveform, se non lo vedi, basta che vai sul tab Oscilloscopi Lumetri, tasto destro e schiacci Waveform Luma. È questo oggetto qua. Andiamo nei controlli di base del colore Lumetri e facciamo tre cose. La prima è mettere a posto il bilanciamento del bianco. Per quanto mi riguarda, questa ripresa è un capello fredda, quindi la andrei un pochino a scaldare. Quest'operazione puoi farla a occhio oppure utilizzando, se ci sono dei dettagli bianchi, come potrebbe essere questo sasso, questo ciotolo, l'apposito contagocce. Vedi che esagera in maniera clamorosa, quindi torniamo un capello indietro. L'altra cosa che ti consiglio di fare è quella di alzare i neri fino a quando, vedi in questo modo qui, non ci sia nulla che scenda sotto al 10, vedi a questa linea con scritto 10. E di fare la stessa cosa con i bianchi, abbassandoli fino a quando non c'è nulla che sale sopra al 90. Fidati e fai semplicemente così. All'inizio l'immagine potrà sembrarti che non va granché bene. Io sto lavorando con delle immagini girate con dei profili normali, diciamo quelle che normalmente potrebbe capitarti di avere, girate magari con una action cam o con una macchina comunque non professionale. Tra pochi minuti ti sarà chiaro per quale motivo devi fare questa operazione. Volendo se trovi che l'immagine è un pochino slavata puoi sempre abbassare un capello o le ombre ed eventualmente alzare un po' le alte luci. Ma ti consiglio di non esagerare, un aspetto così un po' slavato in questo momento può assolutamente funzionare. Proseguiamo e facciamo questa operazione per tutte le clip. Ok, diciamo che va bene così. Hai visto che ho fatto delle operazioni leggermente diverse a seconda della clip perché le regolazioni quindi i neri a 10 e i bianchi a 90 vanno regolati con un minimo di sale in zucca. Questo ti arriverà un po' con l'esperienza facendo qualche piccola prova ti accorgerai subito che magari una determinata clip necessita di una regolazione un po' diversa dalle altre ma col sistema che sto spiegandoti potrai comunque ritornare sui tuoi passi. Ora, giunti a questo punto andiamo nel nostro progetto che è questo qui andiamo sul pulsante del nuovo elemento e creiamo un livello di regolazione. Accettiamo le impostazioni di default e trasciniamo questo livello di regolazione sopra a tutte le nostre clip. Ok, ti faccio vedere rimpicciolendo un minimo ecco qua, vedi tutto il nostro filmato è coperto da questo livello di regolazione. A questo punto in questo livello di regolazione noi possiamo intervenire di nuovo col colore Lumetri e applicare la stessa identica regolazione a tutte le clip sottostanti. Usiamo questa come esempio e spostati nel pannello colore Lumetri sul tab creativo. Qui hai a disposizione una serie di LUT piuttosto consistente che ti viene fornita direttamente col programma, con Premiere Pro. Se fai una ricerca su Google per free LUT LUT gratis quello che preferisci ne troverai a centinaia e molte sono di buona qualità altre magari un po' di meno ma comunque è estremamente semplice trovare delle LUT belle e pronte. Nel mio corso ti spiego come realizzare le tue come salvarle e poi come applicarle ma anche senza capire niente di tutto questo anche senza cercare nulla ti faccio vedere che applicando quelle che ti vengono fornite da Adobe già puoi ottenere dei buoni risultati. Questa per esempio è una delle mie preferite le puoi scegliere utilizzando questi tasti freccia oppure selezionandole se sai come si chiama qui dal menu e per applicarle è sufficiente un click. Ecco qui l'ho applicata. In questo momento capisci per quale motivo ti ho fatto fare quella operazione perché spesso e volentieri guarda che cosa fa la LUT contrasta l'immagine e finisce con l'oscurire i neri e schiarire i bianchi per cui se non hai eseguito una color correction che è la prima fase da eseguire su ogni clip quella tecnica per portare tutto il filmato allo stesso aspetto corretto ti troverai poi in difficoltà quando andrai ad applicare la LUT perché le immagini saranno troppo contrastate e dovrai ripassarle tutte quante. Se al contrario invece il contrasto non fosse sufficiente puoi sempre aumentarlo perché parti da un punto standard direttamente su questo livello di regolazione. Un'altra che a me piace molto è questa SL Gold Tobacco che ha questo aspetto un po' particolare e in questo caso guarda come in effetti il contrasto si aumenti ma non quanto con la LUT che abbiamo utilizzato all'inizio quella della Fuji Eterna. L'altra regolazione che ti consiglio di applicare a questo livello se ti piace è questo cursore che si chiama sbiadito che crea questo look appunto un po' sbiadito che è tanto di moda nei social e che in maniera minima per esempio ecco in questo modo qui può essere d'aiuto volendo insomma anche un pochino di più io non amo particolarmente questo aspetto quindi tendo a regolarlo su valori veramente minimali. Il passo successivo è quello di andare nella vignettatura se questo effetto ti piace ma di solito aggiunge ecco basta una vignettatura assolutamente minima e già l'immagine ti faccio vedere così è senza così è con vedi che cambia immediatamente d'aspetto e con un semplice clic riesci ad avere un look un tantino più professionale. Vediamo che cosa è successo in questo filmato clip per clip mettiamo anche l'audio in questo filmato hai visto come in pochi minuti abbiamo cambiato l'aspetto di questo filmato hai anche visto che c'è una clip nello specifico questa qua che ha una leggera dominante direi magenta e questa cosa puoi serenamente metterla a posto tornando sulla clip nelle regolazioni di base e alterando il bilanciamento del bianco vedi basta fare questa cosa qui e la dominante magenta è sparita io scalderei anche un capello e farei ancora un po così quindi riguardando il filmato nella sua integrità potresti renderti conto che qualcosa che hai eseguito nel passaggio precedente non è del tutto corretto e poi sempre tornare sui tuoi passi guarda la differenza questa è l'immagine da cui siamo partiti e questo è l'aspetto che abbiamo ottenuto lo faccio vedere anche su questa inquadratura siamo partiti da questo siamo arrivati a questo è il tutto veramente in due minuti se fai caso applicando questa lat il nostro bianco è verosimilmente un pochino troppo basso e non dobbiamo fare nient'altro che agire selezionando il nostro livello di regolazione qua sul cursore dei bianchi e portarlo al livello che vogliamo io non arriverei a 100 perché non ce n'è nessun bisogno perché vedi questi bianchi puri anche che stanno appena appena sotto ci sta con l'aspetto che abbiamo creato nel corso ovviamente ti spiego questa tecnica e tantissime altre in maniera molto più approfondita e capendo ogni singolo passaggio ma già con queste pochissime informazioni potrai iniziare a sperimentare con le tue clip seguimi su instagram perché almeno tre volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato alla realizzazione di quello scatto mi trovi come video zappo così come su tutti gli altri social se vuoi darmi una mano con il canale e condividi questo video sul tuo facebook o sul tuo twitter e se vuoi pagarmi un caffè trovi il link in descrizione comunque grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video mica penserai che mi ero scordato davvero del regalo i primi dieci che utilizzeranno il coupon colore gratis potranno avere questo corso senza spendere neanche un euro a condizione che si impegnino a lasciare entro il mese di maggio la loro onesta recensione e valutazione del corso su udemy corri a iscriverti perché dieci sono pochi e ci vediamo davvero nel prossimo video